C'è arrivato l'accordo tra Comune di Savone e Ata per il POD. Cosa cambia in termini di raccolta dei fiuti, pulizia urbana, aree verdi? Sicuramente per la nostra amministrazione è stato un forte cavallo di battaglie in campagna elettorale. Noi ci siamo impegnati con i cittadini su questo argomento. Credo che oggi sia una risposta veramente concreta alle esigenze e alle necessità in campo di pulizia per la città. Il POD è il piano operativo di dettagli che lo stiamo per approvare in giunta comunale oggi. Praticamente è la parte esecutiva del contratto di servizio tra l'azienda municipalizzata e il Comune di Savona. I POD praticamente sono suddivisi in cinque parti. Spazzamento, raccolta rifiuti, pulizia cimitero, aree verdi e sgombero neve e salatura delle strade.